Il fascicolo aperto dal PM Baldo Pisani riguarda presunte irregolarità nella gestione dell'impianto. La Procura starebbe concentrando le verifiche anche sulla questione relativa all'incremento delle tariffe per il conferimento dei rifiuti. Su questo secondo filone, ancora in fase di indagine, gli inquirenti mantengono al momento il massimo riservo. È invece chiusa da mesi l'inchiesta sul presunto disastro ambientale causato dalla discarica, sotto sequestro da oltre un anno. In udienza preliminare saranno chiamate a rispondere a vario titolo dei reati di falso ideologico, commissione di atti d'ufficio, froda in pubbliche forniture e disastro ambientale, i titolari della società Lombardi Ecologia, proprietaria della discarica di Contrada Martucci, tecnici e componenti della commissione di collaudo regionale che avrebbero omesso i controlli. Secondo la ricostruzione della magistratura inquirente, la vasca, che per anni ha raccolto rifiuti, alcuni pericolosi e non autorizzati, non sarebbe stata costruita secondo il progetto e le norme di legge, provocando l'infiltrazione del percolato nel sottosuolo, inquinando così la falda e i terreni agricoli circostanti.